Nel primo trimestre del 2023 le esportazioni complessive delle province di Novara e Vercelli sono cresciute nel loro insieme del più 6,7% tendenziale, registrando una performance di poco al di sotto di quella nazionale, pari al più 9,8%. E, quanto emerge dallo studio di Fondazione Edison. Prosegue dunque la crescita del valore delle esportazioni, emersa con forza nel corso del 2020. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.